Allora, ieri mi ha chiamato la ministra ed è molto contenta che c'è qualcuno che vuole tornare a scuola e si è complimentata e ha detto che si organizzerà per tornare a scuola. E senti, da quanto tempo va avanti la tua protesta? Da circa una settimana. E fino a quando più o meno? Finché non riapriranno le scuole. Grazie a tutti.